Un comitato per sostenere l'imprenditoria femminile. Fortemente voluto da Camera di Commercio, a Varese vede al timone Ilaria Brogian, leader di un gruppo affiatato e determinato. Ma su quali basi si fonda l'attività del comitato? Significative, risponde la protagonista, che ricorda come le imprese facenti capo a donne nella nostra provincia rappresentino un quinto del totale e occupino 36.000 persone. Gravemente danneggiate dal Covid sono ora pronte a sostenere la ripresa, complice a un piano nazionale di resilienza che destinerà 100 milioni di euro al sistema femminile, cui si aggiungono i 40 milioni che il governo italiano indirizza al Fondo Impresa Donne. Parola d'ordine concretezza, ma anche un'indipendenza economica individuale utile a innescare ricadute collettive. Sviluppare l'imprenditoria femminile è anche una leva per garantire l'indipendenza economica della donna e di contribuire in questo modo fattivamente anche allo sviluppo economico del nostro territorio. Fondamentale il ruolo della formazione, leva imprescindibile nella logica del fare. Questo comitato è già in primo luogo indirizzato alla formazione, sia professionale che imprenditoriale delle donne. Si vede ad esempio il bando della Camera di Commercio che ha erogato dei contributi per la formazione, ma con anche delle premialità proprio per l'impresa femminile. È un comitato che opera in stretta sinergia con i progetti della Camera di Commercio e di fatto anche seguendo tutte le linee guida derivanti dal PNRR nazionale. Quindi l'obiettivo è quello di trovare strumenti a supporto proprio della professionalità e dell'imprenditoria femminile. Abbiamo parlato della formazione, ma mi viene in mente anche che un altro tema importante potrebbe essere quello dell'accesso al credito, perché di fatto sappiamo che dagli studi effettuati le donne hanno più difficoltà ad ottenere il credito da parte delle banche. Insomma, il lavoro è tanto, ma l'orizzonte appare promettente. Mi aspetto di costituire un gruppo di donne concrete, coese, operative, propositive, però devo dire che già da questi pochi giorni ho ricevuto varie manifestazioni di interesse che mi fanno pensare di essere sulla buona strada.